ragazzi sono arrabbiatissimo mi scuso in anticipo per lo sfogo però fridkin pinto svegliatevi svegliatevi mannaggia la miseria o di bala era andato a casa di morata a mettersi d'accordo per un'eventuale acquisizione della roma ha portato le magliette ai bambini ai figli di morata erano erano tutti e due d'accordo per una coppia vincente a roma sì è vero facciamo la coppia juventina di qualche anno fa ma sti cavoli sempre meglio di belotti murigno l'ha chiamato perché lo conosce da tanto tempo a morata è stato il suo ex calciatore e ci puntava e ci punta ancora che fanno pinto va a discutere con i procuratori e che cosa sento dire le richieste sono troppo alte poi ragazzi voglio fare un'ulteriore premessa morata può piacere e non piacere questo è fuori discussione tanto è vero che ho parlato con mio figlio e mi ha detto poverino a 13 anni papà ma che te frega tanto morata è una pippa facciamoci una risata perché non so se andando avanti riderò però per farvi capire che non è per il calciatore perché poteva essere qualsiasi pinco pallino è soltanto per come sta agendo la roma non mi piace come si sta comportando spero che ci sia un cambiamento drastico ma intanto fatevi salutare ragazzi adesso andremo a fondo su questo argomento mamma mia vi invito a tutti a supportare questo video con un bel like con un bel mi piace ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ad attivare la campanellina e a seguirmi su instagram link in descrizione lo so che farò incavolare parecchi tifosi giallorossi che tanto ormai sono abituato che mi criticano mi criticano mi gridino ma a me non me ne frega niente io penso col mio cervello l'avrete capito ormai sono disposto a tutto insultatemi fate quello che vi pare ma come si sta comportando la società giallorossa fino adesso non mi sta piacendo non mi sta piacendo un acquisto dovevamo fare dobbiamo fare uno uno un attaccante un centravanti uno che si mette là davanti e cerca di fare gol cerca di fare riparto da solo perché abraham si è fatto male si è rotto i legamenti ce l'avremo non so neanche se quest'anno perché sapete come vanno a finire gli infortuni ai legamenti crociati abbiamo belotti che non voglio fare dissing ma è l'anticalcio non è più il belotti di torino ragazzi l'abbiamo visto tutti e non vede più la porta corre si si dà da fare per carità massimo impegno ma io il contratto non glielo avrei mai e poi mai rinnovato abbiamo solbacca nel sciaravi ok ma non sono prime punte come non lo è di bala serviva una persona serve una persona è il primo acquisto che dovevi fare ma stiamo sempre a emozionare i prestiti siamo sempre andando stiamo sempre andare a parare con i parametri zero a fare i mendicanti a chiedere i favori alle altre squadre ma secondo voi l'atletico Madrid no l'atletico Madrid ma te lo viene a regalare a te Morata che non sarà Mbappé per carità non sarà Osimène non sarà Kane ma ti viene a dare a te un prestito oneroso oppure te lo te lo dà ai soldi che dici tu noi abbiamo venduto ragazzi Tahirovic che per carità diventerà il migliore calciatore del mondo ma stiamo parlando di un calciatore che un giocatore che ha fatto due tre presenze in serie a e l'hai venduta 8 milioni e mezzo 8 milioni e mezzo e non ti vuoi dare 15 milioni a Morata 15 milioni è l'offerta che l'Inter sta facendo sta chiudendo per Morata l'Inter no gli deve dare 12 milioni la Roma 12 milioni perché il prezzo lo facciamo noi non lo fa l'atletico Madrid ti dovete dare una svegliata nessuno vi ha detto niente quando vi siete venduti sto mondo e quell'altro perché dovevate fare le plus valenze avete cominciato con Zagnolo a gennaio e quelli sono soldi che sono entrati avete venduto Clivert avete venduto Volpato Missori Darboa Darboa Providence e Carles Perez e avete percepito la rivendita di frattesi il 30 per cento eppure frattesi ve lo siete fatto sfilare sotto al naso sempre dall'Inter ma che stiamo facendo qua ma che cosa stiamo facendo è vero che dobbiamo rispettare il fair play finanziario è verissimo ma pure le altre squadre lo devono rispettare è possibile che la Roma è ultima nella classifica degli acquisti fino adesso sono andato a guardare questa questa classifica tra virgolette no è proprio una vera è proprio è una vera è proprio la classifica scusate ragazzi sono avvelenato sono avvelenato la Roma è ultima è ventesima non ha speso ancora un euro non ha non ha niente sapete chi è diciannovesimo diciannovesimo sopra la Roma l'Empoli che ha speso 3,5 milioni per carità il campionato il campionato il campionato il carciomercato non è assolutamente finito è fino ad agosto ma noi ci dobbiamo presentare i nastri di partenza con un attaccante non dico formidabile ma poco ci manca ma spenditi qualche sordo per per l'attaccante no ma che c'avete le mani proprio come i pinguini dicono che i freddini hanno i sordi appalate per carità magari non possono spendere tanto sicuramente leggerò i commenti e non possono spendere non possono spendere non possono spendere non possono spendere oh l'altro anno avete speso 7 milioni per celic adesso non potrete spendere 15 milioni per morata perché è quello che che alla fine si accorderà così con con l'intero e col milano con la juo chi che sia invece per la roma è troppo dove devono valutare adesso pinto porterà la 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 offerta ai freddini intanto se se fregano pure morata si comprano anche morata e noi dove andiamo a parare a scamacca per carità anche scamacca buon giocatore ma secondo voi noi due stem ci ha scritto giocondo in testa che che ce lo viene a prestare a noi noi stiamo facendo affidamento al ragazzo perché è di fidene e di roma e quindi vuole tornare a casa sarebbe il suo sogno e noi facciamo affidamento a quello sperando che il west m ci faccia questo regalo perché west m è babbo natale non gli serve a lui un altro attaccante c'ha soltanto morata e antonio è due attaccanti west m fra 20 giorni comincia la premier league e secondo voi ce lo viene a regalare a noi io vedo questa leggerezza questa come si sono sbrigati a fare a fare le vendite entro il 30 giugno invece l'attaccante che serve a morigno come pane come c'è dopo che si era rotto a brame dove già avere la carta la carta pronta subito invece di rinnovare a belotti che dicono che è stato rinnovato perché ha raggiunto pari bonus ma dai insomma ma di che stiamo parlando di che cosa stiamo parlando io non lo so che cosa sta succedendo guardate adesso abbiamo difficoltà a fare un acquisto 1 1 io posso capire i vari parametri zero di indica guarda per carità chapeau prendi un altro prestito christensen va bene un altro parametro zero a centrocampo sarà un altro regalo del pari san germen si dice renato sanchez ma non lo so che poi non ha giocato neanche l'altro anno adesso poi un altro prestito per l'attacco di un calciatore che non ha mai giocato l'altranno scamacca ha fatto un anno buono al sassuolo l'unico che poteva fare secondo il mio modesto parere ma secondo anche per di bala e morigno era morata che almeno qualcosina la davanti poteva poteva costruire non stiamo parlando di fenomeno di un fenomeno assoluto per carità non sono bigotto capisco ma era il centravanti più appetibile quello che dovevi chiudere vogliono vogliono 20 euro tu offri 12 chiudi a 15 16 e dagli sti soldi hai 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 incamerato hai riscosso quasi 80 milioni dalle cessioni ragazzi andatevi a fare i calcoli la roma da gennaio ad oggi quasi 80 milioni tra tra vendite varie e percentuali sulle rivendite di calciatori in passato quindi non abbiamo 15 milioni per dare a l'atletico per morata ragazzi siamo messi male 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 io spero di no spero che mi posso contraddire domani facendo un altro video e chiedere scusa ma a me questa situazione non mi sta piacendo affatto assolutamente siamo proprio raschiando il fondo con questi preestiti che poi noi sapete come siamo fatti a roma li esaltiamo per carità però abbiamo ci ha dimostrato wine addom che i prestiti sono fine a se stesso punta su un calciatore uno che poteva fare qualcosa là davanti come morata secondo me ma anche su qualcun altro è anche su qualcun altro ma il talento ma perché non lo vanno a cercare perché non prendono un calciatore che può che possa esplodere che non si conosce a magari lo metti là davanti e dicono ma chi è questo chi l'ha preso un quarraschelia romanista lo so che sto esagerando però perché perché la roma non non li trova questi calciatori no per calmo per quale motivo oppure si vende i migliori calciatori e delle giovanili meno male che hanno tenuto pove però io guardate ragazzi scusatemi lo sfogo non la riesco più a capire questa situazione spero che mi posso rifardire oggi come si dice rifardire a roma non lo so comunque rifare un passo indietro e dire altre altre voci e altre altre frasi perché non tutti gli anni ti capitano i parametri zero come dibala matic e compagnia cantando che poi sono sono venuti a roma grazie a murigno perché se non c'era murigno ma quando mai quando mai venivano all'ombra del colosseo a trigoria quando perché questi vogliono essere allenati da murigno perché ha il blasone ha il palmares ha il carisma poi anche lui può piacere o non piacere perché magari ai più può essere antipatico però i calciatori danno l'anima per murigno l'hanno detto tutti perciò non lo so io ragazzi che situazione si sta creando a roma a me non mi piace sono non sono affatto tranquillo io vi dico la verità sereno anzi perché tranquilla roma ha fatto ha fatto una brutta fine non sono sereno sono molto preoccupato scusa per lo sfogo però intanto ti invito a supportare questo video con un bel like per farlo girare adesso sicuramente leggerò i commenti dei romanisti non sei da roma sei sei la ciale sei napoletano sei giuventino sono enrico caffarelli e sono orgoglioso di pensare col mio cervello a te che stai scrivendo qualche commento negativo nei miei confronti però ti voglio bene uguale perché hai visto il mio il mio video ragazzi lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e seguitemi su instagram link in descrizione ragazzi sono preoccupato speriamo bene dai